Non è vero ma ci credo. Cosa hanno in comune questa canzone di Julio Iglesias? Un paio di pantaloni bianchi e uno zainetto? Sono tutti gesti scaramantici introdotti fin dai primi giorni dell'era caillata e non saranno certo sfuggiti agli appassionati di calcio del capoluogo inebriati dalle sette vittorie consecutive che hanno lanciato il potenza in cima alla classifica ma comunque attenti ai particolari. E così in tanti hanno notato che prima di ogni gara casalinga dagli altoparlanti dello stadio Viviani vengono diffuse le note di semilasci non vale, chissà se riferite a qualche vecchia fiamma del presidente o al rapporto di Rosso Blu con la vittoria. E non passano certo inosservati i pantaloni bianchi indossati da Salvatore Cagliata in casa e in trasferta e lo zainetto nero dal quale il patron Rosso Blu non si separa mai. Sono passati decenni dal sale sparso a bordo campo come buon augurio ma i propositi sono gli stessi, scacciare le invidie, aprire le porte, quelle metaforiche alla fortuna e le porte, quelle del terreno di gioco, alle reti del Potenza. E visti i risultati i condomini dei palazzi che affacciano sullo stadio Viviani dovranno rassegnarsi ad ascoltare ancora a lungo una hit un po' datata ma dal grande fascino. Per il Potenza questo ed altro non è vero ma ci credo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.